Nuovo rialzo in arrivo per Shiba Inu e PepeCoin. Guardate questo grafico! Benvenuti all'interno di questo video. Se vuoi ottenere il miglior bonus in circolazione nel mondo cripto, clicca su Binx tramite il mio link in descrizione perché depositando andrai a ricevere un bonus complessivo di 9.000 dollari. Hai sentito bene? Segui tutto in descrizione. Shiba Inu, Shibi, ha avuto una corsa impressionante nelle ultime settimane, guadagnando il 19,2% nei grafici settimanali, il 239,1% nei grafici a 14 giorni e il 247,5% rispetto al mese precedente. Tuttavia, l'asset ha subito una correzione del 6,7% nelle ultime 24 ore. L'ultimo rally dello Shib è probabilmente dovuto al nuovo massimo di Bitcoin, BTC. Il rally di BTC sembra essersi esteso ad altre altcoin, portando a un rally a livello di mercato. Nonostante la recente correzione, la performance di Shib ha portato l'asset a guadagnare qualche posto nella classifica. Shib è attualmente l'undicesima criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, appena sotto il suo rivale, Dogecoin, Doge, che è salito al decimo posto. Secondo CoinCodex, Shib potrebbe assistere a un altro rally entro la fine di questo mese. Inoltre, la piattaforma prevede che Shib cancellerà un altro zero e salirà a $0,000111 entro il 7 aprile 2025. Raggiungere $0,000111 dai livelli attuali si tradurrebbe in una crescita di circa il 251%. Changely prevede anche un rally di Shiba Inu, Shibi, da metà marzo in poi. La piattaforma prevede che Shib raggiungerà $0,000197 entro la fine di marzo, in aumento di circa il 195,7% rispetto ai livelli attuali. Inoltre, Changely prevede che Shib raggiungerà $0,000118 entro il 7 aprile 2025. Il potenziale rally di aprile dello Shib potrebbe essere dovuto all'imminente evento di dimezzamento di Bitcoin, BTC. Inoltre, il team Shib ha affermato di aver raccolto fondi per bruciare 4,5 miliardi di token, il che potrebbe aiutare ulteriormente il rally. Tuttavia, va notato che galiustioni Shib hanno raramente portato a un'impennata dei prezzi a causa della massiccia offerta circolante. Un investitore di Shiba Inu ha interrogato lo sviluppatore principale, Shytoshi Kusama, sulla bruciatura di un trilione di token Shib. «Perché non bruciare un trilione di Shiba come ha fatto Floki?» ha twittato l'investitore taggando Shytoshi. Shytoshi ha risposto all'utente dicendo che «Gli sviluppatori Shib non hanno un trilione di token nel loro gattino come Gli sviluppatori Floki». «Pertanto, bruciare un trilione di token Shib rimane fuori dall'equazione», ha affermato. «Perché, a differenza degli sviluppatori di Floki, non ho un trilione da bruciare. Fai!» «Ricorda che quando sono entrato in Shiba avevo sei mesi ed ero completamente decentralizzato. Lo faccio solo per le persone», ha detto Shytoshi. Per raggiungere il traguardo di un centesimo, Shib deve rimuovere trilioni di token dalla circolazione. Senza l'invio di token Shib al portafoglio morto, una corsa dei prezzi verso la soglia di un centesimo di dollaro rimane impossibile. Anche se il mercato rialzista si intensificasse, lo Shibi potrà arrivare solo fino a un certo punto e ristagnerà a causa dell'offerta di 589 trilioni. Il token deve scarseggiare per poter scalare in modo sostenibile le classifiche nei prossimi anni. Leggi qui per una previsione realistica. Dei prezzi su quando Shiba Inu potrebbe superare la soglia di dollaro 0,01. Al momento della stesura di questo articolo, lo Shib veniva scambiato a 0,0000314 dollari ed è in ribasso di quasi lo 0,05% nelle transazioni giornaliere di 24 ore. Inoltre, anche lo Shib è sceso di quasi il 61% rispetto al suo massimo storico di 0,0000816 dollari, raggiunto nell'ottobre 2021. È probabile che Shiba Inu operi tra due estremi con una svolta positiva e negativa nell'andamento dei prezzi. Alexander Kupsikevich, ricercatore di mercato senior presso Fax Pro, ritiene che Shiba Inu abbia le carte in regola non solo per ripetere il test del suo ATH di dollaro 0,00008845, ma anche per cancellare uno 0 per scambiare fino a dollaro 0,0001 entro la fine dell'anno. Alexander ha osservato che, sebbene sia improbabile che Shiba Inu venga scambiato ai livelli più alti del ciclo di mercato del 2021, può cavalcare le future ondate del mercato delle criptovalute. Finder, una coalizione di esperti del settore, non è altrettanto ottimista riguardo al prezzo futuro dello SHIB. La piattaforma ha fissato l'obiettivo di fine anno per Shiba Inu a 0,00001 dollari, il che significa che la valuta digitale è sulla buona strada per crollare di circa il 34,26% dal suo prezzo attuale di 0,0000314 dollari. Controbilanciare le previsioni Inoltre, Finder ha osservato che prevede che il prezzo dello SHIB scenderà fino a dollaro 0,000025 entro il 2025 con un obiettivo leggermente ottimistico di dollaro 0,000045 entro il 2030. Pepe Coin, Pepe, Shiba Inu, SHIB e Dogecoin, Doge, sono aumentati fino al 26% nelle ultime 24 ore, mentre Ether, ETA, si è avvicinato ai 4.000 dollari, un livello precedentemente visto nel dicembre 2021. Pepe è balzato del 26% sulla scia di un rinnovato ottimismo, mentre Doge e SHIB hanno invertito le perdite di giovedì salendo del 10%. La categoria delle monete meme tracciata su CoinGecko ha mostrato una crescita settoriale media dell'8,6%, mentre Coindesk20, un ampio indice di vari token, è aumentato del 2,53%. Con l'aumento di Bitcoin ed Ether si verifica un effetto spillover in cui aumentano anche le monete distribuite su Ethereum e Solana, comprese le monete meme, ha condiviso Slater Heil, co-fondatore e co- della piattaforma DeFi Blueberry Protocol, in un messaggio a Coindesk. GLI investitori trarranno vantaggio il più possibile dalle condizioni rialziste e le monete meme sono un modo per farlo. Nel breve medio termine, mi aspetto un ritorno alle altcoin guidate dai fondamentali, ha avvertito Heil. La domanda rialzista di Ether ha iniziato ad aumentare a metà gennaio, in considerazione delle aspettative secondo cui sarebbe stato il prossimo token principale dopo Bitcoin, BTC, a ottenere un Exchange Traded Fund, ETF, spot negli Stati Uniti.